Buongiorno dalla redazione, oggi è sabato 18 febbraio. Un chirurgo di Castelvetrano avrebbe diagnosticato il tumore al boss Matteo Messina Denaro, la diagnosi dopo averlo sottoposto ad una colonoscopia. Lo studio del professionista sede proprio a Castelvetrano. Gli investigatori sono arrivati a lui attraverso la documentazione sanitaria trovata nell'ultimo covo del boss, quello di Vicolo San Vito a Campobello di Mazzara. Non è ancora chiaro se il medico fosse a conoscenza della vera identità di Messina Denaro. Scada alle ore 13 del prossimo 3 marzo, il termine ultimo per le associazioni culturali per presentare il proprio progetto e accedere al concorso del prossimo Carnevale di Sciacca. Il via libera al bando è arrivato nel pomeriggio di ieri. Parteciperanno cinque carri allegorici, il sesto carro, quello di Peppe Nappa. Confermato l'impegno di spesa del comune, 90.000 euro, 159.000 quelli necessari per pagare i premi destinati ai carri. La restante parte dovrà quindi essere pagata dalla società privata che si aggiudicherà l'organizzazione della festa attraverso un altro bando. Comincia stasera intanto nel centro storico, rivediamoci in maschera, la tre giorni di spettacoli che prevede una seconda serata domani e poi una terza martedì 21 febbraio. Previste animazioni, balli e poesie in piazza Scandaliato, dove per l'occasione saranno installati i manufatti in carta pesta. Stasera a partire dalle ore 21 sul palco salirà Pippo Graffeo con sogni di Carnevale tra passato, presente e futuro. Con lui a Cursio Sclaferi, Anna Rita Maretta, Emanuele Scaduto e il gruppo di ballo di Roberto Giglio. Si parlerà di mobilità sostenibile oggi pomeriggio a Sciacca in occasione dell'assemblea di cittadinanza attiva in programma alle ore 17.30 nell'aula bagna di Palazzo Lazzarini. Il movimento ha elaborato idee proposte per rendere la città più vivibile e meno caotica. Una città con meno auto, meno rumori attraverso sistemi di mobilità alternative ed un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici. A relazionare saranno l'assessore Salvino Patti, l'ingegnere Deborah Ciaccio e l'architetto Salvatore Chiarello. Calcio domani. Nuovo importante confronto per lo Sciacca nel campionato di eccellenza. La squadra di Totò Bruculeri allo stadio Gurrera alle ore 15 affronterà il Don Carlo Misilmeri, quarta forza del torneo. Un avversario che nelle prime giornate era apparso come principale antagonista dell'Akragas per poi abbassare il proprio ritmo. L'ambiente fiducioso in casa Sciacca. I segnali sul piano del gioco che la squadra ha fornito nelle ultime settimane sono positivi. Si punta alla vittoria. Match inizio alle ore 15. Palla a volo. Trasferta a Terrasini. Oggi per il volo a Club Sciacca nel campionato di serie C maschile. I palermitani in classifica hanno 24 punti. Sono terzi. Sacensi quarti con 19 punti. Terrasini è avversario ostico e storico delle ultime stagioni. Le due squadre più volte si sono contese il primato in classifica. Ogni partita è sempre stata molto combattuta. trasferta difficile anche nel campionato di serie D femminile. Domani pomeriggio le Sacensi giocheranno a Monreale. È tutto. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero Whatsapp.